3 a 1 abbiamo fatto Ciao Ciao Paolo in mezzo Vito in questa posizione e come punta là davanti adesso intanto parte Jacques Quando ti guardo ti saluti Ciao Vai 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 Bello bella bella, bella bella Bello Uh Bravo Digital Bene Brava Raffaelle ciao c'è sto dai vacca dai che sfiga la carriggiata è enorme vai ragazzi, vai che facciamo vai cosa cazzo c'è qua bello bravo non è chito si è chito si bellissimo bello bello vai scaricare no 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 bravo 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 Francesco fermalo 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 bravo no bravo 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 nooo buono gioco di usciano si arriva eh eh mamma fermelo Cambo fermelo Cambo bravissimo Cambo ma buttalo fuori ma non so che tornare ma cazzo ha fatto un gran recupero al gambo bravo Cesco bravo vai 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 Isac la tua grandissimo nooo mamma de dio vai Isac dai 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 nooo dai 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 è possibile che la passa sempre ah dai 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 è possibile bella è bella è bella campo bravo non lo metti che il ballon li ma dai seguite Paolo che gol seguite Paolo non fermi, non fermi vai parca mai che la passa io per il sto via, dai tu siiii siiii bravo copri l'uomo dietro io, io, io tira caputana schifosa non fermi, non fermi dai l'uomo dai l'uomo dai ora allora Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.